E in partenza dal binario 11, treno diretto Milano-Bologna-Ravenza, coincidenza per Serbia... Camminare, Camminare, sempre in assoluto silenzio! E in partenza dal binario 11, treno diretto Milano-Bologna-Ravenza, coincidenza per Serbia, Cesaratico, Bellaria, Igea Marina, Rimini-Diricione. Treno dei fiori per Trenova, Varazza, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano Marina, Oniglia, Imperia, Sanremo, Portigliera, Ventimiglia. E in partenza sul quarto binario. Treno dei fiori per Trenova, Varazza e Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano Marina, Oniglia, Imperia, Sanremo, Portigliera, Ventimiglia. E in partenza sul quarto binario. Trenova, Finale, 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 Fin Grazie a tutti.